Io lo so che tu c'hai voglia di mare e allora spariamoci un bello spaghettino ad arselle Oltelline che amo lo metti fare, mettiamola a spurgare e facciamo un bel fondo di aglio, olio e peperoncino Facciamola aprire, aggiungi un bicchiere di vino e con pazienza appena son cotto tu le sgusci una a una Filtra l'acqua e riutilizzala per risottare gli spaghetti Che spettavolo! Risottali così vengono più cremosi, che crema! Alla fine quando son cotto tu aggiungi bottarga di muggine e le nostre arselle sgusciate Mantica con un filo d'olio e alla fine guarda che spettavolo, che crema! Mi pare adesso avviare e giondarsena!